Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray! E qui è Frenchy Dreams! Benvenuti in questo incredibile spacchettamento delle Laming Cards di Dragon Ball Super! Ebbene sì ragazzi, queste sono le ultime carte che mi sono rimaste. In totale ne abbiamo 8 più una bustina bonus, che apriremo insieme come busta finale. Tra noi ci sarà una vera e propria battaglia, possiamo chiamarla così. Io spacchetterò queste 4 bustine, Francesca le altre 4, e vedremo chi riuscirà a trovare le carte più rare. Come al solito, scriveteci nei commenti se ti fate per me, con l'hashtag TeamJoseph, e se ti fate per Francesca, con l'hashtag TeamFranci. Dovete sapere che nel corso dei tanti spacchettamenti che ho fatto, ho trovato molte carte rare, e il mio raccoglitore è un bel po' pieno. Se volete vederlo, dovete lasciare un like adesso. Franci, quanti? Allora, 5815. Oh ragazzi, sono tantini, un po' difficile, però ragazzi, io confido in voi, pollice in su, se volete vedere il raccoglitore, magari chi lo sa, qualche altro spacchettamento. Oggi però vedremo questa sfida, nella quale sono sicuro io riuscirò ad uscirne vincitore. Beh, caso, non è che... Beh, io sono fiducioso, sono fiducioso. E come al solito, ve lo ripeto ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche, e anche al canale di Francesca, dove trovate slime, squishy, molte cose molto divertenti. Il canale di Franceschina è in descrizione. Poi, tranquilli, fra qualche giorno, come ogni sabato, arriverà la nostra sfida su Dragon Ball Xenoverse 2, con le ragazze in bichini. Tanto che avete fatto! L'ho detto, l'ho detto, sì! Vi avete lasciato un botto di like per le ragazze in bichini nel video di Xenoverse 2, quindi vi ringrazio un botto. Quindi, basta chiacchiere, direi che possiamo iniziare. Francese, carica! Sì! Tra l'altro, vi faccio vedere che Francesca indossa la maglia Vero Saiyan. Falla vedere la maglia Vero Saiyan! Se io me la ricordo, facciamola vedere che me la sono ricordata. Come al solito, se anche voi volete la maglia Vero Saiyan, la trovate in descrizione. Ci sono tante taglie, tanti colori, approfittatene. Sembra un vero venditore di quelli che... Sì, chiamate il numero verde! È solo per oggi l'offerta! Dai, quindi ragazzi, procediamo assolutamente con il nostro spacchettamento. 3, 2, 1, e si va! Ed eccoci qua, ragazzuoli, finalmente con lo spacchettamento incredibile e impressionante. Allora, qui ho le mie quattro? Ah, inizio io? Sì, inizio io. Perché sei convinta di vincere, perciò... Facciamo un pacchetto tu, un pacchetto io, un pacchetto tu, un pacchetto io e poi c'è la speciale. Poi c'è quella bonus, quindi la nona bustina. Non-onna, nona. Sarà a mezzo punto ciascuno. Vediamo, vediamo poi come gestircela. Allora ragazzi, vado io con la primissima bustina. Vediamo un po'. Allora, devi sapere che ci sono le carte, quelle normali, e poi ci sono anche... Quelle rare. Quelle zappiro e così via. Attenzione, eccola qua, me la son chiamata, Francesca. Possibile che hai già perso. E' svelluccicosa, quindi per questo... Allora, aspetta, si vede di sottofondo, chissà se ce l'ho, dopo vediamo meglio. Allora ragazzi, prima carta, il nostro potentissimo Beerus. Come sapete queste carte sono un po' trasparenti, quindi metterle a fuoco è un po' un casino, mettiamola così. Qua abbiamo Goku in una posa di combattimento. Ok. Ed eccola qua ragazzi, la nostra Vados. Praticamente questa è una carta molto rara. Poi magari me lo direte voi, come conferma. Questa non ce l'hai? Non ricordo, mi pare di non averla. Magari, ragazzi, ricordatemelo perché da un po' che non faccio spacchettamenti delle carte, appunto, Laming Cards di Dragon Ball Super. Perché queste erano girate? Non ne ho idea. A volte capita. Ah, ok. Poi ho questo Vegeta che non ce l'ho, mi pare di non averlo. Invece Goten, sì. Da come noti, ci sono cinque carte. Te lo vuoi rubare? Sì. Ci sono cinque carte in ogni bustina e lo vado a ripetere perché me lo chiedono sempre. Quanto costano? Un euro. Una bustina costa un euro. C'è scritto, esatto, proprio alle spalle. Allora, Francesca, tocca a te. Allora, adesso tocca a me. Vediamo. Francesca, ragazzi, sono sicuro che troverà tipo la carta più potente di tutto il gioco. Ci sono. Che se non sbaglio... Allora, c'è anche io sbilluccicosa. Allora, sei partita con Krillin e sei partita molto male, eh. Eh, va bene. Mettiti un po' più giù. Mettiamola a fuoco. Allora, ho Krillin. Va bene. Poi ho un Vegeta. Un Vegeta molto cattivello. Se riesci, ecco, avvicinala un po' di più, esatto. Non sono pratica di queste cose. Attenzione! Bam! Black Goku! Ma questo ce l'hai? Non ricordo se questo ce l'ho, sono sincero. Io ho tanti Black Goku perché di ogni personaggio ce ne sono un botto, ragazzi. È la stessa rarità della tua, immagino. Esattamente. Entrambe dovrebbero essere carte Zaffiro. Se non sbaglio, questo è il nome preciso. Poi, vediamo un po' cos'hai. Ho un Trunks. Un Trunks. Ma tu hai qualcosa di più raro. Bam! Mamma mia, che figata! Ma che figa! Che bella! Vegeta contro Maghetta. Questa mi mancava. E siccome hai trovato sia una Zaffiro che una di queste carte particolari, se non sbaglio si chiamano carte Storia, non ricordo di preciso ma in ogni caso, chi se ne frega, ottieni due punti perché hai trovato due carte di questo tipo. Quindi una carta brillante ed una carta di questo tipo rappresentano un punto a testa. Francesca, due a uno. Qui siamo già a due a uno. Stiamo a due a uno. Francesca, questa te la devi portare per forza a casa, questa vittoria. Va bene. Si sa, se non vinco o no. No, no, no. Tipo, quelle cose lì. Non c'è. Com'era il detto? Non mi ricordo. Vabbè. Comunque Francesca non ha capito minimamente cosa che volevo dire. Sì, lui non è molto bravo con i detti. No, comunque, se non si vince non c'è divertimento, è una roba del genere. Non so se è un detto. Allora abbiamo un piccolo... Abbiamo un piccolo piccolo. Però questa non è anche questa speciale. Eh, ma no, dai, facciamo solo le brillanti e quelle di tipo storia perché altrimenti quanti punti dobbiamo assegnare. Quindi due a uno per Francesca. Ragazzi, qua mi sa che mi è capitata malissimo, eh, stavolta. Abbiamo un altro Goku in una posa filissima. Una posa molto fila, sembra tipo Superman quando si imposta in maniera totale. Poi abbiamo un piccolo, abbastanza sorridente, che tipo sta tramando qualcosa, non so, eh. Vediamo... Oh, però ce l'ho pure io, attenzione. Allora, Ozamas, il caro Ozamas, che abbiamo visto anche in uno degli ultimi episodi fatti insieme su Xenoverse 2. E poi, attenzione, attenzione, bam! Bella questa! Che spettacolo! Goku vs Hit! Qui è quando Goku ottiene il Kaioken. Per 10 Kaioken! Vai, Francesca! Francesca finalmente ci sta dando soddisfazioni qua direttamente con Dragon Ball Super. Vedete, su Dragon Ball Super forse è più ferata di Zeta. Grave, gravissimo. Tocca a me. Ragazzi, scrivetelo a Francesca nei commenti. Hashtag Francesca guarda Dragon Ball Zeta. Lo so, è un hashtag molto lungo, ma è per una buona causa. Allora, tocca a te. Sì. Vai, vediamo. Quindi siamo 2 a 2. Siamo... Io ho fatto un altro punto. Siamo 2 a 2, Francesca. Però... Se ne sono terribili da aprire. No, guarda che sono semplici, dai. Vabbè, noi siamo messi qui in maniera un po' complicata. Allora, hai subito il Carovegete, che è una posa di combattimento. Non ricordo se ce l'avevo questa. Poi ho... Un Goku messo sotto sopra, poverino. Fantastico Goku. Su Passai a Jin. Poi... Trunks. No, che poi non lo chiamano Trunks. Lo chiamano Trans-K. Una roba del genere, ragazzi. Giapponesi lo sappiamo come sono fatti. Poi... Attenzione, attenzione. Goku. Con una bella Kamehameha. Ma non ho trovato niente. Eh, stavolta ti è andata male. Poi Goku in fase di attacco. Francesca, mi sa che questa la perdi oggi. Ragazzi, dai, ditemi perché ti fate. Sono gasato. Voglio vedere. Sì. Guarda che ora siamo pari. Restano due bustine a me e due bustine a te. Quindi nulla è perduto. Nulla... E poi c'è la bustina bonus. E poi la bustina bonus. Magari quella per riappacificarci dopo che io avrò vinto. Eh, tu però c'hai qualcosa di sbilluccicoso. Mamma mia, eccolo. In primo luogo abbiamo trovato il nostro Vegito. Veggeku, detto... Giovanni! Ragazzi, Giovanni presente in ogni episodio. Ormai con Francesca lui c'è sempre. Assurdo, ragazzi, perché Giovanni è tra noi. Poi... Uh, che spoilerone. Allora, giriamo la carta. Attenzione. Eccolo qua. Un altro Goku su Pasayajin Bru. Anche tu ormai l'hai imparata la pronuncia. Quindi eccolo qui. Se solo mi mettesse a fuoco, perdonatemi, ragazzi. Perché è sbilluccicante la carta. Eh, sbilluccico, un po' trasparenti. E poi abbiamo Goku Super Saiyan Blu. Ragazzi, carta davvero stupenda. Peccato che io ce l'abbia di già. Non importa. È comunque un punto in questa sfida, eh. C'è da dirlo. Quindi siamo 3-2 per me. E poi abbiamo due carte. La prima è il caro Maghetta che abbiamo visto prima picchiarsi malamente appunto con Vegeta. E quelle tua non te la darò mai. E poi un altro Goku che è in posa di combattimento. Eh, Goku è molto comune come personaggio da trovare. Eh sì, sono messi apposta. Sono messi Goku, Vegeta. Sono carte messe in più appunto perché sono quelle probabilmente un po' più ambite e richieste. Mettiamo tutto a fuoco. Francia, vai. Abbiamo. Sai chi è lui? Il combattente. Esatto, perché l'hai letto. Il combattente è il più forte di tutti gli universi. Ovviamente no, Francia. Devi poi capire anche un po' il perché. Abbiamo il nostro virus. Il dio. Della distruzione. Dell'universo. 6. 11. 12. 11. Un universo 7 che è quello di Goku e Deus. Eh, ma l'altra volta l'ho indovinato questa volta. Va bene, va. Poi abbiamo un Vegeta. Un Vegeta alquanto imbronciato, c'è da dirlo. E di nuovo, non la carta è buona. Uffi, siamo 3 a 2. Mamma mia, Francia è andata malissimo. Vegeta e Majin Buu. Vegeta e Majin Buu. Guarda Majin Buu com'è carino. Com'è messo simpatico lì. Majin Buu è uno dei miei cattivi preferiti. Che poi lì è diventato buono, dai, in super più o meno. Tocca a me? Sì. Ragazzi, al momento siamo... 3 a 2 per te. 3 a 2 per me. Però guarda che finché non apriamo l'ultima bustina non è detto. Mamma mia, Francia, non ci credo. Mamma mia, Francia, non ci credo. Mamma mia, Francia. Ho perso, mi hai distrutto qua. No, vabbè ragazzi. Joseph Gamer colpisce ancora. Questa è veramente bella. Questa, peccato che io ce l'abbia di già. Vabbè, comunque Trunks contro Black Goku. No, vabbè, è bella a prescindere. Quindi, ragazzi, un altro punto e vado a 4 mentre tu stai a 2. Poi, sotto cosa abbiamo? Ancora Giovanni! Praticamente il nostro Vegito che sta per attaccare un nemico. Ragazzi, quanto spacca questa carta? Ancora Giovanni. E poi, sbam! Goku! Guarda che bellissimo. Brillante, davvero molto bello, con gli abiti, praticamente, della saga, della resurrezione di Eppe, vado a 5 punti. Eh sì, perché ha il simbolo di Whis. Il simbolo di Whis, esatto. Quindi vado a 5 punti totali. Spettacolo! E poi abbiamo un piccolo Majin Buu, molto simpatico. E poi un Gohan. Un Gohan, questo è anche il nome. In versione studioso, sì. Diciamo questa caratteristica del nome riportato sulla destra. Ok, allora vabbè, siamo 5 a 2, a meno che non mi escono 3 carte in un pacchetto. Non penso che siamo 6. Vediamo, Francesc, beh, chi lo sa, chi lo sa. Vediamo. Mamma mia, raga! No, vabbè, non ci credo. Che cosa hai trovato? Ho trovato Fuget Zamasu. Fuget Zamasu. Contro Giovanni. Contro Vegeco, ragazzi. Vabbè, chiamiamolo. Non ci credo. Da-da! E ho trovato. No! Non ci credo, Francesca, trova la carta più rara del gioco. Mamma mia, Francesc. Oramende. Guarda, non ti dico che questa vale 2 punti, perché sennò dai, poi... Oramende! No, vale 1 punto. È la carta più famosa del gioco. Ma l'hai trovata tu, Francesca, non ci credo. Boom! Booyah! Ragazzi, non ci posso credere. Poi, ho un botang. Botamo! Che botang, Francesca! Ma aspetta, ma fai rivedere questo, ragazzi. Ma che spettacolo. Dai, ragazzi, Francesca. Grazie, Francesca, perché questa mi permette di completare l'album. Questa ha attacco 610. Numero 143. Sì, è quella più forte, perciò è la più rara. E difesa 610. Wow! È quella più forte in assoluto del gioco, se non sbaglio, eh. Botamo. Botamo. Attraverso la telecamera quest'anno sembrava una G, perciò. Vabbè, vabbè, perché noi... No, Francesca, non ci credo. Francesca, non ci credo! Ho vinto io, qui mi sa. Perché questo con questo vado a 4. Voi a 4, vediamo. Trunks. Trunks. E con questa... Goku contro Zamasu. Zamasu qua. Hai trovato un'altra carta storia. Quindi, Francesca, in questa bustina hai fatto 3 punti. Io direi 4, perché questa è la carta più rara del gioco. No, ma che? È la carta super super bonus, questa. Ma che? Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. A Francesca la facciamo valere 2 punti questa, però la bustina bonus è mia. È quello che succede. Eh, va bene, ok. Ci stai? Scusami. Quindi siamo 6 a 5. È un buon compromesso. Ok. È un buon compromesso. Va bene. Perché siamo 6 a 5 e tu stai per vincere. Ma quest'ultima bustina ci dirà chi vincerà. Puoi confermare o rivoltare il risultato? Vedremo, esatto. Allora, a parte, ragazzi, sono preso molto bene perché Francesca è riuscita a trovare quella carta potentissima di Zamasu. La volevo. Oh! Eh, ho perso! No! Non c'è! No, Francesca, non c'è! No! Francesca, non c'è! Non ci voglio credere! No, ragazzi! Sono stato trollato. No, che poi... Cioè, è tutto troppo perfetto per te! Non è possibile, Francesca! Le carte, ragazzi, le avete viste? Mi dà pure il vaccino di Giuda, traditrice. E il pat, pat sulla spalla. Ragazzi, non è possibile. Avete visto che le bustine erano chiuse? Guardate anche questa sotto. È chiusa perché se no dicono Ah, avete imbrogliato per far vincere Francesca? No! Era chiusa la bustina. Non ci voglio credere. Cioè, guardate, ragazzi, vabbè, vediamole comunque per dargli la giusta importanza. Allora, Giovanni! Giovanni, il nostro Vegito. Un Goku, Super Saiyan in posa che sta cadendo da un palazzo. Majin Buu! Poi abbiamo Majin Buu abbastanza sorridente. Un altro Trunks. Un altro Trunks. E Vegeta in posa che deve andare in bagno. Perché lo vedo un po' in difficoltà. No! Vabbè, ragazzi, Francesca ha vinto. Io non so che dire. È riuscita a trovare delle carte davvero spaziali. Delle carte incredibili. Guardate questa. Ha vinto in Xenoverse 2 nell'ultimo video. Ha vinto in questa sfida degli spacchettamenti. Vuol dire che sabato, quando arriverà la sfida con le ragazze sexy, la vincerò io. Sarai troppo distretto a guardare le ragazze sexy per vincere. È probabile, però cercherò di concentrarmi. Che dire, carte ovunque, ragazzi. Dai, mettiamole tutte quante qui che fanno una bella confusione di sottofondo. Noi, ovviamente, speriamo che questo video vi abbia divertito. Se ne volete altri, ragazzi, ce lo dovete in primo luogo scrivere nei commenti. Ma soprattutto lasciare un like. Perché è tramite i like che noi comprendiamo se questo video, appunto, vi ha intrattenuto, vi ha divertito. E soprattutto, vi ha fatto almeno uscire una risata o un sorriso. Se ne volete altri, ripeto, fatevi sentire al massimo. Quindi, ragazzuoli, visitate il canale di Francesca. Il link lo trovate in descrizione. Guardate altri video presenti sul mio canale. Ed iscrivetevi anche al mio di canale, attivando la campanella. Quindi, ragazzuoli, alla prossima. Ciao!